Un salotto diffuso in scena per tutta la giornata di sabato tra artigianato e gusto quindi con la collaborazione anche di Porto Sant'Elpidio. Sì, certamente è una bella manifestazione perché ci vede molto vicini, uniti e parteciperà anzi anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio, sarà presente durante la giornata e ci sarà la possibilità appunto di comprare queste scarpe che in genere troviamo nelle Marche e ci richiamo nelle Marche per fare le spese nelle varie aziende calzaturiere famose nel nostro centro Italia. Quindi sabato per tutta la giornata le troverete a Campli, proprio a portata di mano. Noi facciamo di tutto per promuovere il nostro territorio in tutti i modi, attraverso il turismo religioso, attraverso il turismo ambientale, attraverso le mostre mercato come questa, attraverso gli eventi culturali come per esempio il cortometraggio che abbiamo realizzato da poco con Maria Grazia Cucinotta. Il tutto è finalizzato a promuovere appunto le attività commerciali nel nostro territorio e a dare opportunità di lavoro ai giovani e infatti qualcosa si comincia a muoversi. Il 2 giugno verrà inaugurato un B&B proprio nel centro storico di Campli e quindi qualcosa si sta muovendo e noi siamo molto contenti.